Nella messa solene del Crisma con cui la Chiesa si prepara a vivere il triduo pasquale, Papa Francesco ha parlato del lieto annuncio che il Signore per primo, unto dallo Spirito, ha portato ai poveri e ai prigionieri e agli oppressi, ricordando come la stessa missione oggi spetti ai sacerdoti. Tale annuncio è la perla preziosa del Vangelo, ha ribadito il Papa, perché contiene qualcosa che riassume in sé tutto il resto, e cioè la gioia, anche nei particolari più piccoli, nel farsi prossimi agli altri, nel raggiungere le terre di nessuno, nel lasciare che si usi il proprio tempo. Oltre alla gioia ci sono però altre due grazie del Vangelo, la misericordia e la verità. Che nessuno cerchi di separare queste tre grazie del Vangelo, la sua verità non negoziabile, la sua misericordia incondizionata con tutti i peccatori e la sua gioia. Intima e inclusiva, verità, misericordia e gioia, tre insieme. Mai la verità del lieto annuncio potrà essere solo una verità astratta, di quelle che non si incarnano pienamente nella vita delle persone, perché si sentono più comode nella lettera stampata dei libri. Mai la misericordia del lieto annuncio potrà essere una falsa commiserazione, che lascia il pecatore nella sua miseria perché non gli dà la mano per alzarsi in piede e non lo accompagna a fare un passo avanti nel suo impegno. Mai potrà essere triste o neutro l'annuncio, perché è espressione di una gioia interamente personale. Tali gioie, ha spiegato il Papa, vanno messe in otto i nuovi, dai quali bere a seconda del tempo e della cultura in cui viviamo. Il primo è l'otre di Maria, quello della pienezza contagiosa, che ci permette di superare la tentazione della paura e della pusillanimità. Poi l'otre della Samaritana, ovvero della concretezza, la stessa, affermato Francesco, che ha mosso i passi di Madre Teresa di Calcutta verso i poveri e i sofferenti. Anche il sacerdote deve toccare con le sue mani le ferite, carezzare i malati, disperati, essere uomo della concretezza e della tenerezza. Infine l'otre immenso del cuore trafitto di Gesù, quello dell'integrità mite, umile e povera, che attira tutti a sé, senza essere rigida né presuntuosa.